La sensibilità delle donne nei confronti del proprio corpo e della salute del proprio corpo, e quanto fa la prevenzione? Secondo me stiamo assistendo a dei cambiamenti epocali. Devo dire che in un mondo che va male per tante cose, la consapevolezza dell'importanza della salute e del valore della salute sta prendendo piede sempre di più. Questa è una delle cose positive e se mi impegno in Appom lo faccio sentendomi gratificata dal constatare che sono molte le persone che hanno capito quanto è importante mantenere un dono tanto prezioso che quando è perso purtroppo non c'è più nulla da fare. E questa cultura va inculcata fin dalla giovane età. Per questo sia a me che al dottor Bottini è piaciuto moltissimo questo coinvolgimento di Santo Canale nel voler abbinare ad un concorso nel quale sfilano ovviamente delle bellezze giovani nel pieno della loro salute. Voler abbinare questa loro immagine all'immagine della salute e pensare che la prevenzione viene comunque prima di tutto. deve venire prima della malattia. Io devo andare in ospedale non perché sono malata ma perché sono sana e voglio continuare a rimanere sana. Quindi insegnare a fare dei controlli alle ragazze. e quindi insegnare a fare dei controlli alle ragazze. le persone che stanno dentro i corpi e che cosa si prendono. Guarda, come ti dicevo prima...